Buongiorno a FTE Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa. Il Fuzzi mi guadagna lo 0,3% circa, siamo intorno ai 21.340 punti. Come si vede, i prezzi stanno cercando di rimbalzare dal 38,2% di ritracciamento del rialzo che abbiamo visto dai minimi di fine maggio. Quest'area di supporto 21.250 è decisamente importante, c'è però anche da dire che con il ribasso ieri le quotazioni hanno completato il doppio massimo che si era venuto a creare nel corso del mese di luglio. Quindi la reazione che stiamo vedendo questa mattina potrebbe essere anche solo un return move a toccare dal basso la parte inferiore del nostro doppio massimo. Situazione simile per il DAX, magari andremo ad approfondirlo sul grafico giornaliero, qui sull'intraday si vede in ogni caso che i prezzi sono scesi ieri sul 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di inizio giugno. Quindi una situazione simile a quella del nostro Futsimib, anche se in questo caso il ritracciamento sul quale sono fermati è quello successivo e anche nel caso di DAX c'è un tentativo di rimbalzo che però per il momento non è sufficiente per cancellare il segnale di debolezza che è stato inviato ieri. Passiamo allo studio dei grafici giornalieri, rapidamente diamo un'occhiata nuovamente al Futsimib solo per evidenziare il fatto che le quotazioni sono in una fase calante e questo è il doppio massimo del quale stavamo parlando prima. Vedete c'è stato il completamento della figura con la violazione del minimo del 22 di luglio, il target del doppio massimo se lo prendiamo proiettando l'ampiezza della figura dal punto di rottura, quindi dai minimi che abbiamo appena citato, vedete si posiziona intorno ai 20.850 punti. Quindi è possibile che la reazione che stiamo vedendo vada a ritracciare una parte della seduta ribassista di ieri, magari il 50-60%, ma successivamente potrebbero nuovamente cominciare le correnti di vendita e potremo scendere verso il target che vi ho indicato. Più interessante invece è la situazione per il DAX, perché se andiamo a vedere dove si sono fermati ieri i prezzi scopriamo che i minimi toccati nella giornata ieri sono praticamente coincidenti sia con la base del canale crescente che parte dai minimi di fine dicembre dello scorso anno, questa è la sua linea di base e questa è la linea superiore, mentre c'è anche un altro elemento molto importante, ossia questo canale ribassista, che potrebbe essere considerato un flag, ossia una figura di continuazione del precedente uptrend. molto spesso quando si disegnano questi piccoli canali contrari alla tendenza principale, a posteriore poi si dimostrano solo delle pause del trend principale, vedete ieri i prezzi si sono fermati sull'incrocio di questi due canali. Quindi se dovessero risalire al di sopra di area 12,280, 12,300 ci sarebbe la possibilità di vedere un test della parte alta del nostro canale ribassista e se le quotazioni dovessero poi salire oltre area 12,580 avremo la possibilità di vedere proseguire il rialzo verso il lato alto del canale più ampio che è intorno ai 13.000-13.050 punti. Attenzione però perché se il rimbalzo di oggi dovesse considerarsi, dovesse dimostrarsi solo un elemento correttivo che magari si fermasse sulla metà della candela di ieri, se poi i prezzi dovessero scendere al di sotto di questa forte area di supporto avremmo un rischio elevato di ribasso, vi ricordo che normalmente dopo la violazione di un canale significativo i prezzi se ne allontano almeno di una distanza che è proporzionale all'ampiezza del canale stesso. Quindi in caso di relazione di area 12,100 il target si sposterebbe circa 1.000 punti più in basso intorno agli 11.200-250 punti. Pertanto DAX ancora nulla di drammatico ma siamo in una situazione limite da seguire con grande attenzione. Ieri era stata fatta una domanda su il Bitcoin e sulla sua correlazione col comparto bancario, una vera e propria correlazione con le banche non l'ho trovata, in ogni caso il Bitcoin lo volevo guardare insieme a voi perché è in una situazione decisamente interessante. Vedete che cosa è successo con il rimbalzo che c'è stato quest'anno, i prezzi sono tornati sul 61,8% di ritracciamento della discesa che era iniziata con i massimi di dicembre del 2017. C'è però anche da dire che le quotazioni dopo il test di quel livello di resistenza si sono mosse nell'ambito di questo canale, ancora una volta ritorna l'idea del flag, ovvero sia che questo canale possa essere solo una pausa di una fase di crescita più prolungata. Se dovessimo scendere sotto i minimi del 17 di luglio a 9.086 circa ci sarebbe il rischio di dover considerare ancora non terminata la fase di rimbalzo, ma se i prezzi dovesse riuscire a tenere questo livello di supporto che tra l'altro coincide con il martello che è stato disegnato il 28 di luglio, in quel caso potremmo aspettarci come minimo il test del lato alto del nostro canale, quindi un movimento intorno ai 12.200 dollari, ma successivamente ci potrebbe essere anche un ritorno sui massimi dai quali proveniamo, quindi fino in area 13.800, 13.800, 20. Aggressivamente quindi potremmo essere una situazione in cui il bitcoin potrebbe essere considerata una opportunità d'acquisto a patto di mantenere lo stop subito sotto i 9.000 dollari. È interessante notare che c'è effettivamente, come mi era stato chiesto ieri, una certa similitudine di andamento tra l'andamento del bitcoin e quello del nostro mercato azionario, vedete ci sono effettivamente dei punti di svolta che sono abbastanza coincidenti, quindi la domanda sulla influenza dell'andamento del bitcoin sulla borsa non era poco realistica, anzi ci sono delle similitudini evidenti, sarebbe interessante andare a capire in termini di flussi finanziari qual è la motivazione che lega dei mercati apparentemente così diversi, quindi magari potrebbe essere un motivo di una indagine ulteriore. Passiamo adesso allo studio dei titoli che volevo guardare oggi, sono tutti legati al comparto oil, quindi iniziamo con uno sguardo al future sul crude oil, che è rimbalzato questa mattina, troviamo a 58 dollari e 35 circa, questa linea di tendenza passa a 59,80, 59,90, per adesso quindi la reazione che abbiamo visto nelle ultime sedute, nelle ultime due sedute a tratti diciamo importanti per il breve termine ma ancora non risolutivi per quello che riguarda un'ottica temporale più estesa, ricordiamo sempre che i massimi che sono stati toccati a luglio coincidono col 61,8% di rifiacciamento del ribasso dal massimo di fine aprile, quindi il muro di area 60,50 dollari dovrà essere superato e anche in chiusura di seduta perché si possa ipotizzare un proseguimento della fase crescente, nuovamente almeno verso area 66,66,50, se la resistenza dei 60,50 dollari non verrà superata ci sarà il rischio che da questa fase correttiva poi parta nuovamente una discesa che potrebbe riportarci anche addirittura verso i minimi dello scorso anno. Se andiamo a calcolare infatti i ritracciamenti dal rialzo dai minimi di dicembre, vedete il doppio minimo che si è disegnato a giugno è praticamente coincidente con il 61,8% di tracciamento di quel rialzo, quindi se dovessero vedere le quotazioni che riprendono la strada del ribasso a questo punto ci sarebbe il rischio di vedere violata area 51,50 e in quel caso sarebbe difficile vedere il prezzo del greggio che si ferma se non almeno sul test della base di questo canale che a questo punto inizia a essere veramente molto vicino ai minimi dello scorso anno. Per il momento comunque c'è questo tentativo di rimbalzo, andiamo a guardare cosa significa per i titoli del comparto, su Eni avevamo avuto ieri come del resto per tutto il mercato una seduta abbastanza difficile, oggi c'è una reazione che è maggiore rispetto a quella dell'indice, quindi sicuramente una forza relativa crescente, siamo ancora troppo bassi per parlare di un tentativo di inversione sopra area 14,35, potremmo sperare in un ritorno a 14,60, 14,65, quindi mi fisserei area 14,35 come livello tra il quale tornare a dare fiducia al titolo. Per quello che riguarda Saipem andiamo in ordine alfabetico, la giornata di ieri aveva riportato le quotazioni a contatto con la base di questo canale crescente, il supporto per adesso ha tenuto, anzi ha favorito la realizzazione di un bel rimbalzo, se andiamo a guardare dove passa la mediana del canale direi che in questo caso possiamo considerare quella come riferimento oltre il quale la fase di rimbalzo delle ultime ore potrebbe iniziare a diventare più credibile, quindi oltre area 4,60 e 4,61 ci sarebbe la possibilità di scavalcare i massimi del 25 di luglio a 4,73 e spingerci poi fino ai 4,92 circa. Questa linea dovrà essere tenuta per evitare la ripresa della fase calante, quindi supporto critico intorno ai 4,35 euro. Passiamo infine a Tenaris che nella salute ieri aveva messo sotto pressione la linea che parte dai minimi dello scorso dicembre, vedete da quei livelli però è partita una reazione che questa mattina è la più importante rispetto ai tre titoli che abbiamo guardato, sta cercando di interrompere 4 sedute consecutive di ribasso, la fase calante è la partita dalla candela shooting star del 25 di luglio, massima di questa candela 12 euro, siamo a 11,32, se calcoliamo i rifracciamenti per l'ultima fase ribassista, vediamo che 11,32 è ancora sotto al 38,2% di retracement che è 11,38 circa, quindi sopra 11,38 potremmo sperare di vedere le quotazioni che mettono nuovamente sotto pressione area 12 euro, fino a che siamo sotto quei livelli invece il rischio è che il rimbalzo vada considerato e si dimostri solo un tentativo di ripresa temporaneo. Vediamo se sono domande da parte vostra, c'è Edoardo che mi chiede di Piaggio e Exprivia, vediamo se riusciamo a recuperare rapidamente il grafico di questi due titoli. Iniziamo con Piaggio. È subito evidente la presenza di questo tweezer top disegnato tra il 26 e il 29 di luglio, come vi dico sempre, attenzione però perché la comparsa di una figura ribassista o rialzista di per sé non è sufficiente a dare il via a un movimento nella direzione verso la quale punta la nostra figura, serve sempre una conferma, in questo caso la conferma verrebbe con una chiusura di seduta sotto il minimo del 26 luglio a 2,62 euro circa, quindi fino a che siamo sotto quei livelli, sopra quei livelli scusatemi, c'è la possibilità che le quotazioni tentino nuovamente di andare a prendere area 2,84, se dovessimo scendere sotto area 2,62 e 2,63, temo che potremmo vedere una nuova fase calante al limite anche verso la parte bassa di questo trading range, quindi fino ai 2,38 euro, 2,40 euro. Sopra invece area 2,80 con una conferma in chiusura di seduta oltre quei livelli, ci sarebbero circa 40 centesimi di spazio che il titolo potrebbe fare per andare a raggiungere un target, quindi intorno a area 3,15, 3,20. Vediamo se riesco a recuperare rapidamente anche il grafico di Exprevia. Reduce da una fase negativa abbastanza consistente nella giornata di ieri, questo movimento che c'è stato nelle ultime settimane mi sembra che abbia tutte le caratteristiche di un pennant, ovvero di una figura di continuazione della precedente fase negativa. Il pennant spesso si posiziona intorno a metà dell'intero movimento, quindi se prendiamo l'ampiezza della fase ribassista che lo precede, la proiettiamo dal suo massimo, otteniamo un target intorno a area 0,71. Se dovessero tornare a di sopra di area 1,02 e 1,03 si potrebbe riconsiderare la situazione proprio nel momento, se anche oggi il titolo dovesse rimbalzare, vedrei questo tentativo di ripresa come un rimbalzo temporaneo. Ripeto, solo una chiusura di seduta sopra area 1,02 potrebbe farci cambiare idea, a questo punto sarebbe in quel caso introduttiva a una ricopertura del gap del 15 di luglio. Se non ci sono altre domande vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento. Allora, se sono nel frattempo aggiunte due domande, abbiamo proprio due minuti di tempo, guardiamo rapidamente Fincantieri ma anche Dollaro Canada per capire se ci sono delle figure grafiche interessanti. Fincantieri è una situazione difficile, come abbiamo appena visto c'è stata la realizzazione anche in questo caso, il completamento di una figura di continuazione del precedente trend crescente, in questo caso non è più un pennant ma è un flag, vedete un bel canale che si è disegnato dai minimi di fine maggio, accelerazione e aumento dei volumi alla violazione della base del canale. Insomma, le prospettive per il titolo non sembrano particolarmente buone, c'è da dire che c'è un forte supporto non lontano dai livelli attuali, ovvero minimi di fine 2018 e i minimi di maggio allineati ai 0,90, aggressivamente se stiamo sopra quei livelli man mano che ci avviciniamo a quell'area si possono anche tentare acquisti per il ritorno in area 1 euro con stop subito al di sotto di 0,90, se dovessimo rimanere intorno ai 0,95, 0,96 saremmo un po' in terra di nessuno e quindi suggerirei di rimanere a guardare verso quale direzione si muove il titolo prima di operare, comunque ecco diciamo che il segnale dato il 29 di luglio non pare particolarmente incoraggiante anche perché appunto il ribasso è stato accompagnato da un bel aumento dei volumi. Guardiamo rapidamente se riesco a recuperarlo anche Dollaro Canada. abbastanza interessante graficamente perché appena ha completato un doppio minimo, quindi vedete c'è stata effettivamente una preparazione per il rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime giornate, rimbalzo che più o meno sul target del doppio minimo però si è arenato con questo shooting star, andiamo a guardare qual era l'obiettivo proiettato dall'ampiezza della figura dal punto di rottura, vedete più o meno il target è stato raggiunto e su quello sono comparse queste tre candele con delle lunghe code verso l'alto, quindi c'è il rischio che la fase di rimbalzo sia già finita qui a 1,31,80, in ogni caso questa è una bella resistenza, il fatto che per tre giorni ci sia stato il tentativo di rottura di questo livello e che in chiusura i prezzi siano tornati indietro non è certo un segnale incoraggiante, al tempo stesso questa area di resistenza è evidentemente molto significativa visto come si sta comportando il mercato, quindi se dovesse venire superata ci sarebbe un ulteriore segnale di forza che potrebbe portarci verso i target successivi del doppio minimo che sono a 1,32,20 e 1,33 circa. Quindi nel breve attenzione appunto a una chiusura di seduta sopra 1,31,70 e 1,31,80 per vedere ripartire il trend negativo sarebbe necessario vedere il ritorno al di sotto di 1,31. Questa fase che è contenuta in questo canale, il quale però non è stata toccata ancora la parte bassa, potrebbe anche essere effettivamente un movimento correttivo, vedete c'è stato questo bel rialzo dai minimi di settembre del 2017 che era a sua volta contenuto in un canale crescente, se andiamo a guardare l'origine del canale è questa, possiamo riadattare con una nuova linea parallela il canale e farlo passare dal massimo successivo, guardiamo quanto è stato il ritracciamento con i minimi di luglio rispetto ai minimi di settembre dello scorso, anzi del 2017. Ci siamo fermati esattamente sul 38,2%, quindi ecco l'idea che sul livello sul quale come è possibile vedere è stato disegnato il nostro doppio minimo, guardiamo il grafico a candele settimanali, vedete sul livello di supporto sono comparse due candele settimanali molto simili, due martelli invertiti che hanno poi fornito la base per la reazione, quindi l'idea che ci possa essere un'ulteriore fase di crescita grafica non è diciamo così irrealizzabile, certo che la resistenza che abbiamo evidenziato sembra per il momento molto tosta, quindi la rottura di quei livelli, dato anche il quadro di medio e lungo termine, potrebbe effettivamente rappresentare una buona opportunità d'ingresso per vedere salire le quotazioni al limite anche finare a 1,35, però avrei un po' di pazienza prima di impegnarmi in quel senso perché vorrei vedere come detto una chiusura di seduta oltre questa linea. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, il Dow Jones lo guardiamo domani, sul Dow Jones tanto in ogni caso ci sarebbe poco da dire perché nelle ultime giornate andiamo a contare quante sono state il movimento di stato laterale, 2, 4, 6, 8, 10, 12 giorni che il Dow Jones non invia segnali in un senso o in un altro, il che da un certo punto di vista potrebbe essere anche preoccupante perché ovviamente siamo in presenza di una fase laterale che si è sviluppata a ridosso di una importante linea tendenza, quella che unisce il massimo di febbraio con il massimo di aprile, come forse avevo scritto al termine della settimana scorsa sulla nostra pagina Facebook, avevo fatto un post proprio con questo grafico dicendo o di qua o di là, nel senso che ormai con la vicinanza di questa importante linea di resistenza i prezzi che si stanno muovendo lateralmente appunto da più di due settimane dovranno decidere in che direzione muoversi sotto area 27.050 ci sarebbe un segnale preoccupante con un target almeno fino ai 25.780 punti, comunque domani magari lo riguardiamo con maggiore attenzione. Mi è venuto in mente adesso che mi era stata chiesta un'analisi su Anima e quindi visto che era stata chiesta ieri non posso non farla e recuperiamo rapidamente il grafico del titolo, guardiamo anche qual è la sua quotazione odierna visto che ieri c'era stata la creazione di questo tweezertop, vedete due candele giornaliere allineate con i massimi sugli stessi livelli, tra l'altro la seconda candela aveva anche incorporato in termini di real body la prima, quindi abbiamo anche un bearish engulfing, guardiamo la quotazione odierna, vediamo se la riusciamo a recuperare su investing, rimbalzo è l'1,64% a 3,35€, ricordo sempre che dopo una candela di ampiezza superiore alla norma come quella che c'è stata ieri, solo la rottura del 50% del rifiacciamento della singola candela è un segnale che fa pensare a qualcosa di più di un semplice rimbalzo, la resistenza quindi è a 3,37€, se vedessimo le quotazioni sopra 3,37€ si potrebbe immaginare un nuovo test di area 3,48€, fino a quel momento invece c'è il rischio che la reazione sia solo un fenomeno temporaneo e che poi venga ripristinata alla tendenza di bassista, con una conferma sotto 3,28€ ci sarebbe il rischio di una correzione di tutta questa salita, vedete c'è questo gap lasciato il 28 giugno e i prezzi potrebbero dirigere in quell'area prima di completare la fase discendente. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.